Maury Cinci, facciamo cinci? Maury, aspetta Cinci Fa piano piano, non è che a te che fa la fotografia che ti ha scottato Ma la riprende la scelta Comunque, ci saranno a me a che ti chiederanno C'è o no? C'è o no? Auguri! C'è o no? Francesca e Monica non ha avuto i soldi da nonna 50 mila di ciascuno Il nonna ha dato poco Deveva dare di più No, non ho cominciato No, non ho fatto il rischio Salute, auguri! Cinci, alla nonna A nonna Carolina Gioco alto Tutti guardi auguri 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 E vedete a prendezza che ci metto? Madone Grazie a tutti. 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 soffia come coccettino ci fai amore bello di papà i tuoi soffia soffia monica non è rosa non è un'applicazione molto semplice amore non è un'applicazione molto semplice veramente è un'applicazione molto semplice caro daniela ma se ci fa un po' non è un po' non è un po' ma se ci fa 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 un po' non te lo regalo a tu bagnato una bottiglia no è un ghiacciato ah vieni ah vieni allora che è successo sì eh sai perché come è perché io non hai pagato ma non ho questa roba a pietà sì eh eh no no quant'è no ma quant'è che sarebbe la sei ma sole qui ti senti bravo mamma ma non c'è la data bravo sì ma perché tu pensi del battesimo di Maurizio del battesimo di Francesca Monica, la bella viene l'azienda. Ma tu, vedi, adesso, mi guarda, no? Ma una rossa. Mi voglio la mano. Mi viene a casa a letto. Mi viene a casa a letto. Mi chiamano cosa da pomeriggio, eh? Mi stai dando la mano. Mi faceva la mano, ora. Mi lo dà, no? Andiamo. Mi pare che non lo deve, non lo deve. e lui mi diceva a me, perché lui era stato amico, era pagato, e lui mi diceva, mi sa stupore che è venuto da pagare, e lui mi diceva, come diceva, ma è un po' con la malestra mi diceva mi aveva fatto i programmi, No, 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 no. No, 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 no... Franco un parrochi revenues inoltre... ... La alltså eiki, no, no... Non è RESULTI Grazie a tutti. 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 Dopo vai a filmare la nonna mentre scopa e non si ne accorge. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. la bimba. Grazie a tutti. e 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 a tutti. a tutti. e 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 tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti.